Cosa può succedere ad un nerd che decide di attraversare l'oceano per disintossicarsi dalla sua totale dipendenza dalla tecnologia? È quanto hanno provato a raccontarci i pistoiesi Filippo Gruni, il nerd appunto, Stefano Bizzarri e Lorenzo Cipriani, che poco dopo Pasqua, per un mese circa, hanno attraversato l'oceano in barca, partendo da Antigua per arrivare alle Azzorre, da qui giungere a Gibilterra fino allo sbarco in Versiglia, in barba agli uragani e alle balene, ma soprattutto senza nessuna tecnologia. Il progetto ormai noto ha preso il nome di Save the Nerd ed oltre alle finalità sociali ha anche avuto lo scopo di creare un vero docu-reality su tutta l'avventura e le dure tappe della disintossicazione. Abbiamo attraversato l'oceano, l'itinerario ormai lo sappiamo, dai Caraibi alle Azzorre, poi Gibilterra, le Baleari, fino a Caprera e ci ha accolto con una grande festa e poi via Reggio. È stata un'esperienza meravigliosa, abbiamo navigato per 44 giorni, la tratta più lunga è stata quella dai Caraibi alle Azzorre, ovviamente sono stati 18 giorni e 18 notti di navigazione con tutte le andature possibili, immaginabili, quindi andature di bolina, siamo stati 5 giorni su un bordo di bolina, poi siamo andati al traverso, abbiamo tirato fuori lo spi spesso con andature portanti. Una bellissima esperienza dal punto di vista nautico, dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista umano anche e soprattutto. Veniamo, Lorenzo ovviamente ha fatto il lavoro nautico, però c'è stato chi ha fatto il lavoro di riprese, di video, che ti dici? È andata, diciamo è andata bene perché principalmente per me era la prima volta in barca a vela, quindi la mia preoccupazione principale era quella di rimanere in piedi, ma da un'altra parte dovevo anche riprendere quello che succedeva all'interno della barca, ma soprattutto la disintossicazione di Filippo. E quindi, diciamo, secondo il mio parere è uscito fuori un buon materiale che nei prossimi mesi sarà lavorato per tirar fuori una serie tv o un documentario, stiamo ancora valutando le cose, perché abbiamo una casa di distribuzione che si chiama Berta Film di Firenze, che sta lavorando per noi per trovarci contatti nelle televisioni italiane e estere. Perfetto. Il protagonista di tutto, alla fine, è lui che se ne sta nascosto lì dietro. Filippo, ce l'hai fatta? Ti sei disintossicato? Più che altro sono sopravvissuto, quindi questo è il primo passo verso la realizzazione. La disintossicazione non lo so, vediamo, sta a me poi a rilaborare la vicenda, vediamo. L'esperienza mi ha detto che una lorenza è stata prima di tutto umana. Mi sono anche un po' svegliato, come si può dire, ora non sembra che ancora in un mese sarò in queste condizioni, sicuramente perché mi diceva Valerio quando facevo il nostro skipper, quando facciamo la traversata, guarda, quando tornerai a casa, non lo saprai, ma avrai sempre l'immagine dell'oceano, quando meno te lo aspetti. Ha ragione, è vero, ogni tanto vengono queste immagini, mi clisso un po'. Però è stata un'esperienza fortissima, forte, forte, con tutte le cose che possono succedere in 40 giorni. Quindi per quanto riguarda la disintossicazione mi ha fatto riflettere tantissimo sul tempo libero, quando è quello su cui bisognerebbe lavorare. E mi sono ancora un pochino più preoccupato rispetto a prima delle nuove generazioni. Infatti stiamo pensando anche di parlare, di offrirci come ambasciatori di questa situazione anche alle istituzioni sanitarie. Quindi potrebbe essere interessante anche fare un tavolo, ora vediamo, tipo con l'ASL, per discutere di queste cose, così, giusto per il punto di vista diverso, senza pretese, solo perché comunque ci crediamo dietro a questo punto forte, e noi ci stiamo dietro, supportiamo questa situazione. Va bene, senti Lorenzo, adesso che succede? Ecco, adesso, perché noi abbiamo compiuto questo viaggio, però c'è un progetto dietro, molto più grande, il progetto di realizzazione di un documentario, che si chiamerà appunto Save the Nerd, quindi noi adesso andiamo a lavorare nella post-produzione di tutto quel materiale che abbiamo girato, ed è moltissimo, immaginatevi in 44 giorni di navigazione. Allora, stiamo lavorando per realizzare le puntate di questo documentario, intanto un primo trailer, per poterlo poi promuovere alle televisioni nazionali e internazionali. Allora, per questo stiamo anche ricercando dei fondi, ci sono delle aziende interessate a supportare il nostro lavoro, però per far questo invitiamo anche chiunque voglia venire a veleggiare con noi. Abbiamo Milanto a disposizione, quindi chiunque voglia fare un'esperienza sopra una barca a vela oceanica, uno Swan 46, insieme agli skipper di Save the Nerd, cioè Valerio Bardi ed io, ci può contattare tramite la nostra pagina Facebook, tramite il nostro sito e può navigare con noi per qualche giorno, un fine settimana, un pomeriggio o addirittura una settimana intera. Grazie. Grazie. Grazie.